Allora, gli attaccanti sono Shebab, sono Shebab Somali, ormai è stato definito ufficialmente, pare che appunto qualcuno di quelli che si è salvato, che è uscito, sono dei musulmani tra l'altro che sono usciti, sono stati arringati all'arrivo appunto del commando e hanno detto noi siamo Shebab Somali, chi è in arabo o in somali o comunque non in Swahili Kenyota e gli hanno detto se chi è musulmano può uscire e tutti gli altri rimangano qui.